Se pensi di aver visto tutto nella vita, ripensarci. Ci sono cose oltre la nostra prospettiva umana che aspettano di essere rivelate. Ci sono profondità che dobbiamo ancora comprendere e paesaggi di cui dobbiamo ancora essere testimoni. Alcune meraviglie sfuggono ai nostri sensi umani, per catturare questi momenti davvero straordinari, a volte necessario un drone. Dagli animali ai fenomeni inspiegabili e persino al soprannaturale, unisciti a noi mentre ti mostriamo eventi davvero incredibili catturati da un drone. Numero 1. Il fantasma del cimitero. I cimiteri sono stati a lungo considerati luoghi maturi per attività paranormali, attirando innumerevoli segnalazioni di avvistamenti di fantasmi e incontri agghiaccianti. Questi cimiteri, dove riposano innumerevoli anime, racchiudono un mistero che attira gli amanti dell'ignoto. Di notte diventano paesaggi inquietanti con la luce della luna e le ombre che creano un'atmosfera eterea e inquietante. Un coraggioso proprietario di droni ha deciso di esplorarli di notte, frugando tra monumenti e lapidi consumate. Durante il suo volo, colse la figura traslucida di un fantasma vicino al recinto, come se fosse stato evocato dall'ignoto. Sebbene siano trascorse molte notti, non sono stati segnalati ulteriori incontri con questa entità, lasciando l'evento un enigma duraturo. Una storia sussurrata tra coloro che esplorano il confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Numero 2. Creatura aliena nella foresta. Quando un cacciatore perlustrò Forester Remote fece volare un drone sopra la fitta foresta, la fotocamera catturò inaspettatamente le immagini di una strana creatura che si muoveva tra gli alberi. Con un corpo snello, grandi occhi luminosi e orecchie larghe, l'aspetto del Krypton era decisamente alieno. L'essere inquietante non mostrò alcuna consapevolezza del drone, offrendo uno sguardo ravvicinato al suo fisico anomalo. Gli esperti di esobiologia che hanno analizzato il video hanno potuto solo fare speculazioni sull'identità della creatura. Alcuni suggeriscono che si tratti di una specie sconosciuta di umanoide sotterraneo adattato alla vita nella foresta, mentre altri credono che possa essere di origine extraterrestre. Una valutazione supportata dalle sue caratteristiche visive aliene. Incapaci di garantire prove tangibili, le vere origini del Krypton rimangono incerte. Ma le immagini rafforzano l'idea che le nostre foreste nascondano ancora misteri. Dalle nuove specie in attesa di essere scoperte agli esseri interdimensionali che attraversano il nostro regno, mentre i droni continuano a esplorare le ombre della natura. Ciò che rivelano spesso sfida ogni spiegazione o mette in discussione le nostre ipotesi sulla realtà. Numero 3 In Cina esplorano gli Xiotian, una delle doline più profonde, che mostra un'oasi lussureggiante con cascate e laghi. In Messico, nel sumidero della Scolondrinas, si rivelano intricate formazioni di stalattiti a 3500 metri di profondità. Ad Anadas scoprono un buco blu corrovine marine fossilizzate e una vita marina unica. Inoltre, stanno studiando le cause della formazione delle doline, come la rottura di una cupola di sale in Louisiana e la rottura del calcare a Campa, in Florida. I droni offrono una prospettiva unica di queste meraviglie geologiche. Anche gli utenti ricreativi catturano immagini incredibili, come una dolina guatemalteca dalla forma circolare quasi perfetta. Scolpito accanto a un incendio nella foresta. Sorvolando i campi coltivati, un drone ha catturato una scena inquietante e sorprendente. In lontananza, gli incendi boschivi devastavano il paesaggio, ma in primo piano un contadino solitario continuava ad arare i suoi campi con determinazione. Mentre il fumo oscurava il cielo e le fiamme si avvicinavano, il contadino continuava a guidare il suo trattore tra i filari di terreno arato. Questa insolita combinazione di una routine tranquilla in mezzo alla distruzione ha affascinato gli spettatori di tutto. Il mondo ed è diventata virale su internet. Al di là del dramma visivo, simboleggiava la perseveranza e la speranza umana, dimostrando che nessuno sforzo è inutile, non importa quanto piccolo, di fronte alle avversità. Man mano che la tecnologia avanza e i droni ci offrono nuove prospettive, il mondo rivela sempre più misteri, ma la costante è la capacità umana di affrontare l'ignoto. Numero 4. Invasione di granchi Alla fine di luglio 2023, sulle spiagge meridionali di San Diego, in California, si è verificato un fenomeno insolito. Tutte le spiagge lungo la costa furono invase da piccoli granchi pelagici rossi. In molti video online si vede un gran numero di granchi che invadono le spiagge. Questi granchi sono piccoli, misurano da 2,5 a 7,5 centimetri. Vivono tipicamente nella bassa California, in Messico, ma a volte si spingono più a nord a causa delle correnti calde. Gli scienziati stanno cercando di capire perché ci sono così tanti granchi in California. Dicono che questo accada quando ci sono correnti di acqua calda. Nel 2022 c'era molta acqua calda nell'oceano tra il Messico e il Canada e gli scienziati stanno cercando di capirlo, anche se non hanno avuto molto successo. Ci sono stati eventi simili di invasioni di granchi nel 1997 e nel 2002, tutti legati all'acqua calda. Sebbene possa sembrare facile raccoglierli per la cena, Gli scienziati avvertono che non è sicuro perché possono contenere tossine dannose per le persone. Numero 5. Inseguimento sulla spiaggia. Immagina di rilassarti tranquillamente sulla spiaggia, godendoti il tempo soleggiato, quando all'improvviso, proprio davanti ai tuoi occhi, inizia un vero e proprio inseguimento da parte della polizia di un criminale. Questo è esattamente quello che è successo al proprietario di un drone che ha deciso di catturare l'incidente da una veduta aerea. In un video, si vede un uomo scappare dalla polizia in acqua, cercando di evitare l'arresto. All'inizio sembra avere successo, ma alla fine cade e viene arrestato. È successo a Venice Beach, Los Angeles. La polizia aveva inseguito il criminale, autore di una rapina, per mezz'ora. Lo hanno anche inseguito in macchina, ma non sono riusciti a prenderlo. Ha poi raggiunto la spiaggia e ha continuato a correre in acqua fino al molo di Santa Monica, ma alla fine è stato arrestato a causa di una caduta. Sulla stessa spiaggia si è verificato anche un altro incidente, dove un gruppo di giovani ubriachi ha molestato gli altri e li ha minacciati con gli ombrelloni. Per fortuna la polizia è arrivata in tempo ed è stata evitata la rissa. Numero 6. Nelle fauci di una balena. In uno dei libri dell'Antico Testamento si racconta come il profeta Jonah fu inghiottito da una balena e rimase nel suo ventre per tre giorni e tre notti. Due donne americane, Julie M. C. Sorley e Liz Cotriell, hanno avuto un incontro ravvicinato con una balena nel passaggio di San Luis, sulla costa del Pacifico. Mentre osservavano da vicino l'alimentazione delle megattere la mattina presto, si sono avvicinati troppo a un banco di pesci, attirando una balena verso il loro kayak. In un video catturato da un drone, si vede la balena emergere dall'acqua e avvicinarsi alla barca delle donne. Sembrava che stessero per essere divorati, ma fortunatamente sono sopravvissuti. Le donne hanno affermato di aver tentato di allontanarsi rapidamente, ma di non essere riuscite a evitare l'incontro. I soccorritori li hanno aiutati a uscire dall'acqua e non sono rimasti feriti. Questa esperienza ha sicuramente fornito loro una storia emozionante da raccontare in futuro. Numero 7. Pesce morto. Nel giugno 2023, i residenti intorno a Brian Beach hanno assistito a una scena inquietante e alcuni hanno deciso di catturare l'evento. L'intera costa era disseminata di migliaia di pesci morti. C'era un gran numero di pesci menade e morti a causa di diversi fattori, incluso un rapido aumento della temperatura dell'acqua. Questi pesci hanno bisogno di molto ossigeno per vivere, ma quando l'acqua supera i 21 gradi Celsius non c'è abbastanza ossigeno e cominciano a morire. Nonostante le estati calde in Texas, una moria di pesci così grande non si vedeva da molto tempo. Oltre all'aumento della temperatura dell'acqua, si è verificata una grave siccità che ha reso l'acqua sulla costa più bassa e più calda. La mancanza di luce solare ha anche ridotto i livelli di ossigeno nell'acqua, colpendo non solo i pesci menadi, ma anche le razze e altri animali marini. Numero 8. Una tartaruga colossale. Sulla riva del Paradiso, i visitatori incontrano una creatura meravigliosa. Non è un video falso, questa tartaruga è reale ed è la più grande del mondo. La tartaruga liuto misura 3 metri di lunghezza e pesa circa 800 kg, sorprendendo chiunque la veda. Sebbene le loro dimensioni e il becco affilato possano sembrare intimidatori, sono completamente innocui per l'uomo e si nutrono solo di meduse e un po' di alghe. Numero 9. Palle di neve. Una tragedia sconvolgente è avvenuta in un ospedale di Girona, in Spagna, dove una bambina di 20 mesi ha perso la vita a causa dell'impatto delle palle di neve. Questo tragico evento è diventato il primo caso di morte per impatto di neve in Europa dal 1997. La regione della Catalogna, in Spagna, è stata sorpresa da un'intensa tempesta di grandine che ha causato ingenti danni a veicoli e strutture. La cosa più sorprendente è stata la dimensione delle palline di ghiaccio, che superavano i 10 centimetri, cosa estremamente insolita. Inizialmente, molti residenti pensavano che queste sfere provenissero dallo spazio e le consideravano frammenti di meteoriti, guadagnandosi il soprannome di meteorite gigante. Questo fenomeno si è ripetuto sette volte tra il 2001 e il 2007, e Siviglia è uno dei luoghi in cui è stato osservato più frequentemente. Numero 10 – Turbini di fuoco Un suggestivo video ripreso dai droni ci mostra una scena impressionante in cui le fiamme esplodono e girano con una furia che evoca l'immagine di un tornado mentre avanzano attraverso vaste aree montuose dello stato della California, negli Stati Uniti. Nel video, un uomo descrive la scena dal suo elicottero come il più grande tornado a cui abbia mai assistito. I vortici di fuoco avevano dimensioni variabili da meno di un piede a più di 500 piedi di diametro, e la forza dei vortici più grandi somigliava a quella dei piccoli tornado. La combinazione di vegetazione secca e alberi, insieme ai venti in aumento generati dal caldo estremo dovuto alle condizioni climatiche calde, hanno contribuito al rafforzamento di queste trombe d'aria di fuoco. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sulla scena e hanno stimato che l'incendio inizialmente si estendeva, su quattro acri, ma alla fine della giornata si è rapidamente espanso fino a 150 acri. Nonostante la sua entità, l'incendio non ha rappresentato un pericolo per gli edifici e si è verificato in una remota zona montuosa. Tuttavia, come misura precauzionale, la California Highway 138 è stata temporaneamente chiusa. Numero 11. Strana nuvola. Nelle prime ore del mattino nel cielo si è alzato uno spettacolo insolito, la comparsa di una nuvola detta Denaro, una rarità che raramente si verifica negli strati più bassi dell'atmosfera prima di un temporale. Sorprendentemente, queste nubi possono estendersi fino a mille chilometri di lunghezza, formando talvolta fino a otto anelli consecutivi. Questo tipo di fenomeno si osserva tipicamente in luoghi come Australia, Stati Uniti e Germania, anche se sono in corso ricerche per capire perché si formano queste nuvole uniche. Rimangono ancora in gran parte un enigma a causa della loro rarità negli strati inferiori dell'atmosfera. Numero 12. Il tornado del Kentucky. Immagini aeree degli immensi danni causati dai recenti tornado che hanno colpito lo stato del Kentucky. Il maltempo ha causato molte vittime e 14 persone negli stati confinanti con il Tennessee. Le immagini mostrano i detriti degli edifici distrutti, gli alberi sradicati nelle strade della città di Mayfield. Nel Kentucky, nonché lamiere strappate e distorte dai venti. I tornado hanno anche abbattuto linee elettriche e distrutto auto e finestre. Sebbene il tornado non abbia minacciato alcun edificio, ha devastato una zona montuosa ed è stato temporaneamente chiuso a scopo precauzionale. Numero 13. Interstatale californiano 138. Uno strano aereo è stato fotografato nello stato della California. Ha la capacità di circunnavigare la Terra in mezz'ora, essendo uno dei progetti più segreti dell'aviazione americana. Nel 1990, gli abitanti di New Mexico City sentirono un ruggito nel cielo e alzarono lo sguardo per vedere uno strano, triangolo nero nel cielo. Molti pensavano che fosse un'astronave, ma in realtà si tratta di una straordinaria tecnologia terrestre. Questo aereo è la prova che si realizzano progetti neri nascosti, come il caso dell'aereo F-116, di cui gli Stati Uniti hanno negato l'esistenza nonostante gli sforzi per scoprirlo. Questo progetto è stato tenuto segreto per dieci anni prima di essere finalmente rivelato e classificato come un pericoloso progetto nero. Numero 14. Il fuoco di Sant'Elmo. È un fenomeno atmosferico che si manifesta come un bagliore bianco e blu-violaceo nel cielo. Si verifica quando oggetti lunghi e appuntiti, come parafulmini, ali di aeroplani e persino erba e foglie, subiscono una scarica elettrica all'interno di un intenso campo elettrico. Questo campo attorno all'oggetto ionizza le molecole d'aria, creando un debole bagliore visibile al buio. Questo fenomeno è più evidente durante i temporali quando c'è una grande differenza di carica tra le nuvole e... Il suolo. Numero 15. Il fenomeno dei folletti rossi, conosciuti anche come folletti dei fulmini, sono scariche elettriche che si verificano nell'alta atmosfera sopra i temporali. Sono caratterizzati dal loro colore rosso e sono causati da scariche elettriche nelle regioni elevate sopra i temporali, a differenza dei normali fulmini che si verificano sotto le nuvole. Gli spiriti rossi si verificano in alto sopra di esse e sono prodotti a causa di fenomeni di plasma freddo che interagiscono con le temperature più calde nell'atmosfera. Numero 16. Pioggia di pesci. È un fenomeno misterioso che si verifica ogni anno nella città di Ioro, nel nord dell'Honduras. Consiste in pesci che cadono dal cielo dopo forti tempeste. Sebbene nessuno abbia assistito direttamente alla caduta dei pesci dal cielo, nonostante si tratti di un evento annuale, questo fenomeno è stato documentato con prove fotografiche e video. La spiegazione della pioggia di pesci rimane un mistero, ma è stata collegata ad una leggenda locale che riguardava una richiesta divina di fornire cibo agli abitanti bisognosi. Numero 17. Casa piena di serpenti in India. I serpenti hanno uno status unico e venerato in India a causa delle loro antiche origini e della loro. Associazione con la divinità Indusciva. Questo profondo rispetto per queste creature viene dimostrato ogni anno durante il Festival Nakami, dove migliaia di devoti nei villaggi si riuniscono per adorare e offrire cibo ai serpenti in cerca di benedizioni divine. Una famiglia ha avuto un'esperienza allarmante con i serpenti nella propria casa, tra cui cobra e serpenti a sonagli che si muovevano ovunque, anche nelle camere da letto e in cucina. Questo era inquietante. A Puna, nel Maharashtra, è unico il fatto che i serpenti cobra vivano in quasi tutte le case. I serpenti sono rispettati e costituiscono una parte importante della vita quotidiana. Gli abitanti si prendono cura di loro e, sorprendentemente, i serpenti si muovono liberamente nel paese senza essere danneggiati dagli oltre 2.600 abitanti. In alcuni casi, i cobra sono considerati membri della famiglia. Questa speciale convivenza a Puna mostra una profonda connessione tra la cultura umana e la spiritualità con queste creature. È un esempio vivente di come l'uomo possa vivere in armonia con la natura, rispettandola e temendola allo stesso tempo, creando un legame unico e duraturo. Numero 18. La porta dell'inferno nel deserto del Karakum, Turkmenistan. Nel profondo del vasto e arido paesaggio del deserto del Karakum in Turkmenistan si trova uno spettacolo, sorprendente che sembra uscito direttamente dalle pagine di un libro di storie fantasy. Questo spettacolo affascinante, noto come il colossale cratere infuocato, ha catturato l'immaginazione di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo. Tuttavia, nonostante il suo aspetto infuocato, non si tratta di una meraviglia vulcanica. Si tratta invece di un notevole fenomeno naturale nato da un vasto giacimento sotterraneo di gas naturale che brucia instancabilmente da decenni. Pertanto, si è guadagnato il soprannome di Porta dell'Inferno a causa della sua natura oltraterrena. Questo luogo insolito ha un'origine misteriosa. Nel 1971, i geologi sovietici stavano cercando petrolio nel deserto e perforarono accidentalmente una sacca di gas infiammabile, creando un buco di 60 x 35 metri. Per evitare che fuoriuscisse il metano decisero di accenderlo, ma il fuoco non si spense mai. Lo scopo originale della perforazione ha dato origine a molte speculazioni, dall'essere considerata una porta per l'inferno a un sito per test di armi chimiche. Nonostante le incertezze, è diventata un'attrazione turistica che riceve migliaia di visitatori.